Allora, grazie, mi è stato... faccio un po'. Allora, mi hanno scritto un discorso, però io devo stare a casa. Se io sono qua, sono qua perché mi fa piacere presentare quello di palco. Questa è una celebrazione, non so se sono tutta la gara, non sono lì. Fa pure il problema, però mi devo dirlo proprio. Tanto che mi ha detto, che sono diverso perché non ho capito, non sono tutti i suoi messi, e io non ho capito, non ho capito, non ho capito. Perché c'è un po' di parte che è di essere qua. Chi parla di famigli, sono qualche giorno, sono stati amati a tutti i famigli, che vorrebbero abbonati. E io, il matrimonio di amico, come si dice, io sono stati amici, e 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 io sono stati amici. Questo è troppo, mio figlio è convinto, che era un altro bambino, e io sono stati amici, e io sono stati amici, e io sono stati amici. Perché? Perché, per questo, perché, per questo, perché non sono stati amici, non sono mai fatto. E io, mi hai fatto vedere, perché, tu anche di solito, mi sono per un problema di affidato e quella, che è la tua parte che è perfetta, che sia un problema. Allora, quello che bisogna di dognare a noi, e che è vero, che bisogna di dare, ma bisogna di capire che, Non tutti sono l'altra tecnica che può poter avere un aglio positivo, ecco, perché tutti se si si tratta di sempre. Un giorno dopo, noi siamo convinti, perché ovviamente noi, se io gli parlo a loro, gli parlo a questa voce del sigla, non più, dateci 100 euro, se li portiamo per salvare il mondo di noi, facciamo, ad un'esercitamento di 100 euro, li diamo a chi, a una persona che è fondamentale con la città sicurezza dell'obiettivo, perché lo sigo mostro, secondo me, non ci si tratta di una fama del mondo, se lo ricordo. Allora, la fama è la fama di sensibilità, la gente, il personaggio di Van Gogh, la gente, la mamma, la mamma, però lo che tibbano e INCONSORSADELA liatura di Sicilia del oftentimes y sal . . . . . .